Nel 1996 Olivia Assayat gira Irma Vep con la diva del cinema hongkonghese Maggie Cheung, poi protagonista del capitale In the Mood for Love di Wong Kar Wai, ma anche compagna dello stesso Assayat. Era un film che io vidi all'epoca della sua uscita a Rimini Cinema, film che ricordo meraviglioso, che in qualche modo satireggiava anche una certa mistica della cinefilia e raccontava di Maggie Cheung nel ruolo di se stessa che veniva in Francia per girare un remake dei Vampiri di Louis Fayad, fouilleton cinematografico degli anni dieci, interpretando il ruolo di Irma Vep, uno dei personaggi del film, la donna al vertice della setta criminale chiamata i Vampiri, che agisce in questo film. Irma Vep, d'altra parte, è anagramma della parola vampira. Nel ruolo del regista del film nel film, cioè René Vidal, c'era Jean-Pierre Léau, che con la sua sola presenza evoca la Nouvelle Vague e i più diversi fantasmi da cineteca. Trent'anni dopo, Olivier Saillat decide di girare una serie tv che è una sorta di, non dico remake, quanto un'espansione del film del 96. Io parlo nella rubrica in sala di questa serie perché di fatto si tratta di un film di otto ore. Non è una mia intuizione, ma è il nuovo René Vidal, qui interpretato da Vincent McKenny, e un personaggio molto più autobiografico di quanto non lo fosse la sua incarnazione precedente, a dire la verità, un vero e proprio alter ego del regista. E dicevo, è lui stesso a dire, riferendosi in questo caso non più al film nel film, ma alla serie nella serie, è lui a dire testualmente, io non sto girando una serie, ma un film di otto ore. E in effetti è così. Nel ruolo di Irma Vep abbiamo adesso Alicia Vikander, attrice poi oscarizzata per film, peraltro mediocre, The Danish Girl, e tra gli altri attori va segnalata almeno Jean Balibar, che è una vecchia conoscenza del cinema di Olivier Saillat, oltre che grande attrice. La cifra di questa nuova riformulazione di Irma Vep è la digressione. Abbiamo davanti un film che non perde occasione per sparigliare le sue carte, per divertere proprio da quelli che sono i tracciati della trama, aprendo parentesi su praticamente ogni personaggio, e in qualche modo quasi sovraesponendolo, rivelandocelo a noi spettatori nella sua piena luce. È forse l'effetto note di Olivier Saillat, un film meraviglioso, una delle più grandi esperienze cinematografiche dell'annata, decisamente, tanto più proprio perché pensato incongruamente per il piccolo schermo. un film che vive proprio di questa continua volontà di scartare da quello che è il sentiero tracciato, il sentiero vero e proprio, e che racconta da dentro il mondo del cinema in modo assolutamente personale e idiosincratico, con momenti di commozione, uno su tutti, insomma, il personaggio di René Vidal che ha una visione della propria ex, che poi è una chiara contofigura di Maggie Chong, e qui appunto l'elemento autobiografico viene fuori prepotente, e che dà la misura di come questo film sia una sorta di messa in abisso, un esorcismo dentro l'esorcismo per, così, in qualche modo lasciarsi alle spalle, lasciarsi alle spalle una parte di passato, una parte di cinema passato. Il personaggio di Alicia Vikander è probabilmente anche più complesso e ramificato di quanto non lo fosse il personaggio di Maggie Chong, ma questo avviene banalmente per la maggiore durata, è un personaggio bellissimo che lei interpreta splendidamente, diviso anche lei tra amori perduti, ritrovati, è un personaggio bisessuale, quindi si lascia alle spalle una relazione con la sua precedente assistente che poi è sposato il regista del suo precedente film, lei praticamente interpreta questo personaggio, Mira Arberg, un'attrice di blockbuster americani, attrice svedese naturalizzata americana, in questo senso l'autobiografia forse riguarda anche l'attrice protagonista, e dicevamo appunto d'altra parte rincontra sul set di Irma Vep perché anche lui sta girando a Parigi il suo ex fidanzato, a sua volta lui stesso attore di grandi produzioni hollywoodiane, quindi c'è anche una dialettica, se vogliamo, di Europa versus Hollywood che viene così raccontata, Olivier Sayat non è mai stato, è un cineasta assolutamente europeo, non è mai stato un regista di blockbuster, però ha girato film in America, quindi in qualche modo conosce sicuramente anche i meccanismi, certi meccanismi produttivi e li mette in scena, ecco. Il precedente film aveva una quota di satira, l'ho già detto, prendendo affettuosamente in giro i cinefili che sono cresciuti a pane e a nouvelle vague, qui la stessa satira si spende su questa nuova cinefilia che di fatto sembra appuntarsi soltanto sul, che sembra rinunciare alla sala, ecco, ci sono un sacco di frecciatine a Netflix, alle piattaforme, alla difficoltà che hanno registi della generazione precedente, com'è il René Vidali interpretato da Vincent McKenny, appunto di rapportarsi a questo nuovo mondo, alle piattaforme che sembrano destinate, se non l'hanno già fatto, a suppiantare la sala. In otto ore naturalmente c'è spazio per tantissime cose ed è quasi difficile, quasi impossibile, diciamo, dare conto di questa complessità. Basti dire che è un film in cui si sorride e ci si commuove anche. l'elemento autobiografico sembra essere preponderante, ma anche certe virate fantastiche, diciamo, sono amministrate splendidamente da Asaya, che d'altra parte ha fatto film in continuità con questa cosa, pensiamo solo a Personal Shopper e Christine Stewart, tra l'altro, torna in un cameo nell'ultima puntata di Irma Vep. Dicevamo, il personaggio stesso di Mira, l'interprete di Irma Vep, è un po' sottoposta a questo trattamento. Si identifica talmente tanto col personaggio quasi da assorbirne i poteri e mi ricordo una scena bellissima dell'Irma Vep del 96 con Maggie Cheung a spasso sui tetti di Parigi dopo aver rubato una collana, ma non perché ce ne fosse semplicità, necessità, ma quasi per capire meglio il suo personaggio. Ecco, questa scena viene ripresa più volte nella serie. Vediamo Alicia Vikanders con la tutina di Irma Vep muoversi attraverso i corridoi, attraverso le stanze dell'albergo dove loggia la truppa, a volte riuscendo addirittura a penetrare come un fantasma attraverso i muri. Questa, tra l'altro, è una metafora straordinaria perché Irma Vep è anche un film di fantasmi, i fantasmi del cinema che fu e più in generale il cinema come esperienza fantasmatica, cioè fissare uno schermo, fissare delle immagini delle persone che si muovono ma che di fatto sono imprendibili perché concretamente non esistono, sono nella pellicola e percepite sullo schermo, diciamo, quindi anche con uno sfalsamento, se vogliamo, rispetto a ciò che è l'essere, ciò che è l'apparire, ciò che è la carne e ciò che è la mera riproduzione attraverso l'obiettivo di una macchina da presa. Il finale esaspera tutto questo e con una chiusura meravigliosa, una immagine indimenticabile di Alicia Vikander appunto sui teti parigini con la città sullo sfondo, da lei guardata e quasi sfidata come Rastignac nel finale del Pergoreau di Balzac e una chiusa meravigliosa, ancora affidata alle parole del regista alter ego di Asaya mentre parla al telefono con la moglie dopo un lungo smarrimento che ha causato crisi di ansia, crisi di panico, cambiamenti di umore repertini e quindi anche litigi all'interno della troupe fino a sfiorare la rissa, il tutto con appunto anche l'allontanarsi dalla moglie e dalla famiglia d'origine e così chiude il regista René Vidal i film mi portano lontano ma l'amore mi porta sempre solo a te. Tanto vi dovevo vi auguro una buona giornata.